Belen Rodriguez torna in prima serata con un nuovo programma televisivo che promette di svelare in retroscena delle relazioni amorose in crisi. Dopo un anno di assenza, la conduttrice argentina sarà al timone di Amore alla prova, la crisi del settimo anno su Real Time, a partire dal 20 novembre alle 21.30, in un orario strategico per catturare un vasto pubblico. Nel promo diffuso sui social, Belen ha rivelato curiosità sui suoi ex fidanzati, tra cui Fabrizio Corona, Stefano De Martino, Andrea Iannone e Antonino Spinalbese. Le sue dichiarazioni hanno suscitato l'interesse dei fan, che si sono messi a speculare su chi possa essere il misterioso ex che ha giurato di aspettarla per tutta la vita. Il ritorno in tv di Belen arriva dopo un 2023 segnato da difficoltà personali, tra cui una profonda depressione legata alla separazione da De Martino e tradimenti da parte dell'ex marito. Dopo vari tentativi falliti di ricostruire la sua vita sentimentale con Elio Lorenzoni e Edoardo Angelo Galvano, la showgirl si presenta ora come una donna single, pronta a rimettersi in gioco. Il format del programma Amore alla prova seguirà quattro coppie in crisi, offrendo intrattenimento e spunti di riflessione sulle relazioni moderne. Con il suo carisma e la sua esperienza, Belen guiderà i partecipanti in un percorso che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro delle loro storie d'amore. Con la sua personalità vivace e il suo stile incisivo, Belen è pronta a conquistare.